bella raga dal vostro grande capitano napoli chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale mettete un bel like a questo video seguitemi anche su twitter capitano napoli esperto di calcio sulla mia pagina facebook sempre capitano napoli esperto di calcio ci sono aggiornamenti di mercato dal cogliere dello sport ve lo leggo subito di maria napoli mendes intermediario dell'affare la situazione mendes napoli affare di mercato in vista proprio così l'amico così ha definito dell'orentis nonché il potentissimo manager che oltre a gestire i calciatori in prima persona tipo ronaldo agisce spesso e volentieri da intermediario come nel caso dell'operazione che riguarda il fideo che sarebbe praticamente di maria mica una casualità oltre a cavani continua anche la storia relativa di maria in rottura in rottura tutte e due cotuckel e l'uscita del ps spari in san germain ma soprattutto entra con nell'obiettamente già a quanto paga c'è proprio il signor giorci dietro le quinti di questo doppio movimento di mercato con destinazione da definire il napoli nel frattempo a tendere sotto traccia staremo a vedere altra notizia di mercato la da auriem quindi non io betushai e il profilo idoneo servono 40 milioni ma dell'orientis può tenere uno sconto da bramovic raffaello rima fornisce alcuni aggiornamenti di calcio americano nelle colonne dell'edizione adiena del tutto sport ecco quanto scrive circa il possibile punta che rientra gli obiettivi del napoli il profilo pdone potrebbe essere betushai 24 anni bomber bag di proprietà del celsi il nome dell'attaccante che nella stravagliata stagione appena trascorsa ha realizzato 21 gol in 40 partite tra celsi e borussia d'orbo borussia d'orbo 10 partite a sette cose è diventato forte nell'intensità betushai il nome che maggiormente corrisponde all'idea di ancellotti per avere una coppia d'attacco insieme a milic adatta il campionato della champions league servono 40 milioni per il suo cartellino una somma anche trattabile visto i buoni rapporti tra dell'orientis a bramovic anche su questo ovviamente staremo a vedere se è vero che il napoli sta cercando appunto betushai un altro nome un altro nome in pole per il napoli per continua ogni giorno in pole un nome diverso per il terzino destro come vice isai in questo momento torna in pole sabali forte terzino destro del del bordeaux rimangono sempre vive secondo me la pista darmi e laner anche se laner ve lo ricordate erano d'accordo verbalmente un mese fa su 15 al momento quasi di chiudere hanno sparato 20 milioni e ha fatto arrabbiare ds giuntoli quindi in questo momento sabali e in pole darmian rimane sempre appunto appetibile all'escina io sinceramente preferirei darmian nel match as a unite a sabali secondo me a livello tecnico tattico è più forte ed è secondo me darmian è molto più intelligente molto più bravo nella doppia fase difensiva e offensiva più difensiva ed essere molto bravo sabali è un po più di spinta è molto meno bravo a difendere ri di nuovo un grazie a tutti di tutto il traguardi che abbiamo raggiunto delle 100 mila visualizzazioni un grande traguardo grazie a tutti quelli che si iscrivono e continuate a iscrivervi al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale seguitemi anche su twitter capitan napoli esperto di calcio mettete un fouler se voi penso che sapete cosa vuol dire su twitter mettete un fouler quindi seguitemi seguite anche la mia pagina facebook clic 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 capita napoli esperto di calcio un buon proseguimento di giornata tutti dal vostro grande capitano napoli sempre forza napoli ciao